SIGNOR FRY Signor Fry, confido che abbiate avuto un incontro produttivo con il signor Owen. Oh, sì. Abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Ho scoperto che dietro all'elisir lenitivo di Starric c'è John Eliotson. Il dottor Eliotson? Non sentivo quel nome da molto tempo. Era un brillante cardiologo, finché non è divenuto ossessionato dalla frenologia e dal mesmerismo. Una carriera rovinata. Bene, come procediamo? Con tutto il rispetto, signor Darwin, ma devo continuare da solo. Dopotutto, meglio non attirare troppe attenzioni. Mi sembra molto saggio. A presto, amico! Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero, vi prego, venite da me. Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero. Oh, signor Fry, se doveste trovare un po' di tempo libero. Dove troverò il dottore? Dove troverò il dottore? Dove troverò il dottore? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo l'organo si è... rovinato. Portatemi un cadavere. Subito, dottor Ellison. Non mi importano i tuoi principi. E ancor meno i tuoi dannati pazienti. Ora dammi le chiavi. Che cosa fai? Non hai sentito? Ti licenzio. Ora vattene. Come si fa? Che cosa fai? Che cosa fai? Mentre aspettiamo e credo un discorso sulla fredda... C'era ancora una... Che cosa fai? Che cosa fai? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa ci vorrà a chiudere una maledetta crepa in un muro? Questo posto mi dà i brividi. E non... Dannati i ratti! Questo posto è così... Lurido! Ecco, dottore! Questo è... Così è finita. Eppure penso al nuovo inizio. Un futuro migliore... Un futuro migliore... Scaturito dal sangue dei visionari. Io vedo solamente il sangue di un pazzo. Credi davvero che uccidere un vecchio fermerà il grande architetto del mondo? Crowford Starric ha piani gloriosi per l'umanità. I piani possono essere cambiati. Sei un bambino. Un bambino che crede ancora di poter raddrizzare il mondo a colpi di spada. Non hai mai pensato alle conseguenze delle tue azioni, Jacob Fry? O da tuo padre non hai appreso nulla? O da tuo padre non hai pensato alle conseguenze delle tue azioni delle tue azioni. Non puoi uscire senza la chiave. Ritto in mezzo alla schierta. C'è qualcuno! Allarme! Allarme! Non importa quanto in alto sali... Intruso! Guarda! Torna qui! Hai paura? Dove non ora sparo? E sono di nuovo dietro. Oh! No, no, no.